Giorgia Meloni in Libia al Business Forum, rapporto forte e priorità per l'Europa, focus sulle migrazioni, accordi sul lavoro e energia, da gennaio volo diretto ITA, Roma-Tripoli. Bruxelles, missione Alice al Parlamento e alla Commissione europea, condivise le priorità strategiche dell'associazione con la rappresentanza italiana e stakeholder internazionali. Commercio extra-UE, frenano export e import in calo a settembre dello 0,4% e dell'1,5% congiunturale, bilancia commerciale positiva per 3,6 miliardi. Medio Oriente, oltre 100 vittime per un raid israeliano al nord di Gaza, Tel Aviv contro l'ONU al bando le agenzie nel paese, Naim Kassem, nuovo leader di Hezbollah. Presidenziali USA, sette giorni all'Election Day, 50 milioni di americani hanno già votato in sessione anticipate. Ultimi sondaggi, ancora testa a testa, tra Harris e Trump.